Torna a riunirsi il Consiglio regionale martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 settembre, anche la settimana successiva, lunedì 1 ottobre, seduta obbligatoria per statuto. Martedì spazio interrogazioni e interpellanze cui seguirà la discussione sulla fusione dei comuni di Rivignano e Teor e la conseguente consultazione referendaria. Mercoledì Question Time inizia seduta, quindi l'aula proseguirà l'esame del provvedimento sull'energia e avvierà il dibattito sulla nuova legge sul volontariato. Giovedì ancora in apertura Question Time, in apertura dei lavori, quindi conclusione della legge sul volontariato ed esame di altri due provvedimenti sulla prevenzione del gioco d'azzardo e sulla valorizzazione delle strutture alpine. Lunedì 1 ottobre, subito dopo la legge sul Teatro Verde di Trieste, a seguire la proposta di legge sull'endometriosi, quindi la relazione sui lavori della Commissione speciale per la razionalizzazione delle province, la votazione per le elezioni dei componenti del Collegio regionale di garanzia elettorale a discussione di due emozioni, la prima su un nuovo patto fiscale con Roma che prevede garanzia sull'IRPEF, l'azzeramento del patto Tremonti e rifiuto di nuovi balzelli sulle sanità, nonché la seconda sulle azioni e difesa della dignità e della lingua friullana.